Ci ha lodato Gesù Cristo, un chiamissimo saluto a tutti voi cari fedeli presenti qui oggi nella cappella del piccolo Gesù che acquista in questi giorni con ogni evidenza un carattere particolarmente attraente essendo i giorni di Natale e oggi ci ritroviamo insieme in quella che si chiama Ottava di Natale e che ci fa celebrare l'indomani stesso del 25 del Natale del Signore la festa del protomartire, del primo martire Santo Stefano. Oggi inizia quello che nella liturgia si chiama Corteo dell'Agnello, l'indomani del Natale inizia per tre giorni fino al 28 quello che si chiama Corteo dell'Agnello, cioè ci sono nell'Apocalisse quelli i vergini come si dice che non si sono uniti a donne dice la scrittura e che seguono l'Agnello dovunque va, 26 dicembre Santo Stefano, 27 dicembre San Giovanni Apostolo ed Evangelista, 28 dicembre i Santi Innocenti Martiri. Ecco questi sono chiamati il Corteo dell'Agnello, seguono l'Agnello dovunque va, sono martiri, sono testimoni appunto dell'Agnello e oggi ci viene presentato allora particolarmente Santo Stefano, come mai questa scelta? Beh figlioli cari non è molto difficile arrivarci e lo potremmo dire nella parola maniera più semplice, Gesù il figlio di Dio è venuto sulla terra 25 dicembre perché noi potessimo andare in cielo, 26 dicembre il primo martire. Dobbiamo parlare di Santo Stefano e gli insegnamenti di questo giovane diacono della prima comunità cristiana di Gerusalemme sono tantissimi per la nostra vita, vediamo di raccogliere in sintesi. La prima comunità cristiana con la Pentecoste comincia ad annunciare il Vangelo a tutti, comincia, attenzione, ma anche noi sappiamo che oggi è tempo di un ricominciare e allora ci aspetta il martirio, volesse il cielo perché è dono di Dio, non lo sappiamo, forse non quello di sangue, certamente qualcuno vive già altre forme di martirio che potrebbe darsi non siano meno dolorose del martirio fisico che inevitabilmente con qualche arto ti ha tirato via, con qualche proiettile sparato nel punto giusto ti porta in paradiso. È tempo di un nuovo annuncio del Vangelo, non solo di noi, di tutti, anche di voi fedeli del piccolo resto cattolico perché la falsa chiesa che sta a Roma con l'anticristo hanno costruito un falso Vangelo e annunciano quello al mondo, non più il Vangelo di Gesù Cristo che è uno e uno solo e San Paolo nella Lettera ai Gala ti dice se anche venisse un angelo a predicarvi un Vangelo diverso da quello che vi ho predicato io, anatemasit! Capito? Non dice un diavolo travestito d'angelo, no, no, dice se venisse un angelo! E a Roma hanno costruito, stanno costruendo sempre di più un falso Vangelo, un falso Vangelo, cioè un anti-Vangelo, non è più il Vangelo di Gesù Cristo. Dunque tocca a noi annunciarlo come la prima comunità cristiana. Loro erano lì con Maria, anche noi abbiamo la Madonna con noi. Chi del piccolo resto non sente questa presenza materna? Chi non avverte negli incontri di preghiera che facciamo a Roma, a Torino, a Milano, a Firenze, a Bologna, a Bari, a Cagliari, in giro per il mondo? Che c'è la Madonna che ci riunisce, che ci aggrega e lei, potremmo dire, il collante come lo era nella prima comunità cristiana, la presenza di Maria in questo piccolo resto che rivive la Pentecoste, le origini, perché dobbiamo tornare ad annunciare Vangelo con quella freschezza, con quel vigore, con quella passione che avevano i cristiani della prima comunità di Pentecoste. E tra questi c'era un giovane. Non possiamo sapere esattamente quanti anni avesse, anche se ci sono rivelazioni mistiche, come sapete. Si chiamava Stefano, probabilmente aveva origini ellenistiche, forse non apparteneva esattamente alla comunità cristiana ebraica, ma la comunità cristiana ebraica di origine ellenistica, perché porta un nome greco, Stefanos. Tante volte nel nome c'è già omen omen, c'è la missione. Stefanos vuol dire in greco colui che è coronato. Mi pare che già nel nome forse c'era questa vocazione, colui che porta la corona. Pensate quanto stuoli di martiri ci sono stati nella storia questa. Lui ha l'onore, il merito, la grazia di essere stato il primo martire di Gesù Cristo. Era un giovane ardente. Lui non lo fermava nessuno a Stefano. Nessuno. Si distingueva. Forse più di Pietro, Paolo ancora non c'era, di Giovanni. Vi ricordate che negli Atti degli Apostoli Pietro e Giovanni sono un po' il punto di riferimento. Ma attenzione, un conto è la gerarchia, il punto di riferimento. Un conto è un'altra cosa, il carisma, la profezia. Stefano doveva essere uno che praticamente è lì. La Madonna doveva guardarlo con tanto amore, sono certo. Aveva capito e sentito e percepito la Madonna guardandolo, osservandolo. Avrà detto questo mio figlio è destinato a qualcosa di grande. E Dio lo accompagna perché compie miracoli. Dio lo accompagna perché fa grandi cose e soprattutto, se notate, andatevelo a rileggere, lo dico ai cari giovani seminaristi, vi impongo questa meditazione davanti al Santissimo, notate quante volte viene ripetuto negli Atti degli Apostoli fino alla morte, lo Spirito Santo era con lui, era in lui. Qui è il segreto. Non era un eroe, Stefano. Il Signore non ha bisogno di eroi, non ha bisogno di superman, non ci sono superman. Non è che poniamo il martirio, la santità, è per gli uomini ben dotati. Mi dispiace altrimenti io, scusate, mi tolgo di mezzo, perché sono molto, nonostante sembri il contrario, sempre nelle vite dei chiamati, i chiamati stessi prima di tutto. E poi gli altri devono vedere e scorgere l'azione di Dio. Ho perso tanta gente nella mia strada perché è orgoglioso, è pieno di sé, grida, è superbo, è altezzoso. Sono quelli che non hanno mai saputo veramente chi è Padre Alessandro, che se si togliesse la missione e scumigliassero un socchie veramente venissero a Ghinucchiuna a domandare scusa. Io questo è Padre Alessandro, Padre Alessandro questo è. Ma io immaginavo chissà che cosa. Ah, è lo Spirito Santo, sì, io devo vedere sempre in me lo Spirito Santo. Tu, 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 ognuno di noi, chi è chiamato di fronte agli ostacoli che Satana pone, serpente, le studia tutte e lui non ha mai fretta il ragno che costruisce la ragnatela. Tu devi vedere in te l'azione dello Spirito Santo. Stefano la vedeva e come la Madonna è la prima, l'anima mia magnifica, il Signore, il mio Spirito esulta in Dio, mio Salvatore. Vedere l'azione di Dio in noi ci salva. Perché noi poi sappiamo distinguere bene quella che è l'azione di Dio in noi, capito, dalle nostre miserie. Quella che è la potenza dello Spirito Santo in noi dalle nostre fragilità. Anzi, tante volte Dio si compiace di tenere i grandi chiamati nella, potremmo dire, povertà della loro esistenza. Vi ricordate San Paolo? Un altro grande, eh? Stiamo parlando di giganti. Cosa dice San Paolo? Cosa dice? Portiamo questo tesoro in vasi di creta. Sempre scorgere in noi come Santo Stefano. Prima ancora che gli altri, ognuno di noi, il chiamato deve scorgere. Io lo vedo nella mia vita, domani sono 24 anni di messa. Quanto ne hai visto? Credo pochi sacerdoti siano passati da dove sto passando io. Credo. Potrei sbagliarmi, eh? Non ho questa presunzione. Ma quante ne ho viste? Non sono uno che lascia indifferente. O odio di morte o amore viscerale fino alla fine. Non lascia indifferente. E io in passato speravo che invece andasse così. No, mi sono reso. So che dovunque vado? Dove vado? Separo. Dove vado? Divido. Anche in famiglia. Ma io scorgo questa presenza dello Spirito Santo in me oggi, che mi preparo a festeggiare questa mia, perché lo festeggio, questa mia chiamata. Io vorrei dirvi già da oggi. Ma, ma, Rosanna, 24 anni sono passati. 24 anni. 24, Anna. 24. Ma io vi assicuro, ve lo garantisco, mi sembra che sia un paio d'ore che io sono stato ordinato sacerdote. Sono felice. Ho una risorsa dentro di me, un entusiasmo, una voglia. Certo, Orsola, ora, certo, capito? Ora comincio a dire, però c'è 50 anni e si sente, capito? Prima le scale le salivo. E ora ancora faccio. Comincia un po' di affanno, capito? Perché hai 50 anni. Ma è lo Spirito che rimane giovane. È il cuore che rimane vivo, sveglio, intraprendente, ardente, zelante, che non conosce il confine. Ma perché? Perché sono io. No! Come Santo Stefano, devo scorgere sempre una mente con enorme stupore, come dovete fare soprattutto i chiamati e le chiamate, l'azione dello Spirito Santo in me. Tante le prove, tanta la grazia. Tante le croci, tanta la santità. Scorgere l'azione dello Spirito Santo. E questo Spirito Santo ti accompagna. Santo Stefano annuncia il Vangelo. Annuncia Gesù Cristo. E quando c'hai lo Spirito Santo, non è l'annuncio tecnico, retorico, come tanti preti, inutili, come il sale che serve solo essere gettato via. La gente si annoia. Li ascolta e perdono la fede. Li ascolta e non ci vogliono più andare in chiesa. Soprattutto gli adolescenti e i giovani con questi preti barbosi che non trasmettono niente. Non ci vogliono andare. Ci vuole lo Spirito Santo. Perché al di là delle cose che dici, la gente sente come le dici, che le vivi. E' lo Spirito Santo che ti porta verso nuove frontiere. Non ti stanchi mai quando c'è lo Spirito Santo come in Santo Stefano. Mai. Questi sono i giorni in cui io sono qui a piccola Nazareth. Io dovrei preparare l'agenda pastorale a partire da gennaio. Ho già ricevuto degli inviti. E niente così. Facilmente, come si dice, adempibili in Australia. Poi in Argentina. Poi in Ruanda. Roba di ieri mattina. Ruanda. Ecco. Allora uno si mette a pensare, ma sono pochi. Poi sono tante ore di volaereo, il fuso orario. Per venti persone vado lì. E poi però non è che torno. Perché c'è il seminario, devo fare le lezioni. Vi sto confidando un po'. Cioè, se tu lo guardi, tutto questo qui ti spaventa. Perché dici, non si può. Anzi, io vi chiedo di pregare per me, perché io devo capire dove investire, perché non sono più un ragazzino, come si dice a Roma, no? Però se lo guardi con quell'azione, ecco, vedi in te lo Spirito Santo, allora cambia tutto. Ecco, vedere in noi lo Spirito Santo come Santo Stefano, che annuncia il Vangelo e lo annuncia in modo forte, che ricordatevi, miei cari seminaristi, non aspettatevi l'applauso del mondo e neanche voi, cari laici. Annunciare Gesù Cristo in tutta franchezza significa conoscere, io questo l'ho sempre tenuto presente dal primo giorno, l'ostilità del mondo. L'ha detto nostro Signore, se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. L'ha detto il Santo Divino Maestro, non è che possiamo fare una vita religiosa, sacerdotale, seminaristica, sponsale di Cristo, eccetera. Comunque una sequela del Signore appiattita, vi deve spaventare, chiedete il martirio, chiedete la croce, chiedete i patimenti, abbiate paura di una vita cristiana piatta. L'ha detto Gesù. E infatti Stefano viene adocchiato dai nemici, sempre i poteri forti del mondo, quelli che fobalta sarchiamanti cristici, vengono contro, guardate i santi martiri di ogni epoca. Ma Stefano il primo, sorsero alcuni della sinagoga, ecco, la sinagoga è quella di Gerusalemme proprio. E non adocchiano Pietro, interessante questo, sì, vabbè, Pietro, gli apostoli ovviamente vengono messi in carcere, il sinedrio, li fustiga, vabbè, però poi li rilascia. Ma qui c'è qualcosa di più. C'è il dono del martirio, una chiamata. Non è una candidatura. Alcuni santi, l'ho detto altre volte, sono andati a cercare il martirio e non l'hanno trovato. San Francesco d'Arcisi era andato altro che a dialogare, è andato dal sultano al Malichi per annunciare il Vangelo, capito? E il sultano doveva essere un uomo, ovviamente era sultano, intelligente, ha capito che quel piccolo uomo c'era Dio, quindi non se l'è sentita di farlo fuori, l'ha riprespedita a casa e Francesco non si è più ripreso. L'aspettava un altro martirio, peggiore di quello che lui anelava, a cui lui anelava, perché fra Elia e Elia, i francescani queste cose non le vogliono sentir dire, ma è così. Gli hanno cambiato tutto a San Francesco e quello si è depresso, si è scoraggiato, gli è venuto la cirrosi epatica, si è ammalato, insomma, per permissione divina, la notte oscura, quelle cose lì. Anche Sant'Antonio d'Apà dove è andato a cercare il martirio in Marocco, vuoleva essere sgozzato per Gesù Cristo. si è ritrovato a Messina perché c'è stato un naufragio dove hanno provato anche ad avvelenare. Insomma, ecco, il martirio non è una conquista dell'uomo, è un dono di Dio. Padre Pio piangeva perché quando sentiva dire di missionari negli anni 50 che capuccini, francescani, morivano in Africa per annunciare il Vangelo, lui piangeva perché diceva a me il Signore ha dato tutti questi doni ma non mi ha fatto degno del dono del martirio, morire per Gesù Cristo, per un momento di sofferenza, una beatitudine eterna di gloria, eterna. Fiori cari, quando soffrite non vi scoraggiate, pensate che dura poco, dura sempre poco rispetto all'eternità e noi vediamo, cominciamo a vedere nel nostro cammino persone che erano con noi, che erano al lato a noi, che ora qui non ci sono più. E poniamo, non è che dobbiamo io, parlo di me, sto pensando per esempio a Tony, per tutti quelli che lo conoscevate, ha posizionato lui quel bambino lì. Non è che poniamo io devo fare sforzi mentali per dire Tony dove sei? Perché io qui non ti vedo più, oggi è Natale, ti volevo abbracciare, ne pigliavamo un caffè a mattina, mi venivi a prendere, chiacchieravamo, una battutina tu, una battutina io affrontavamo la dove sei ora? Non è che io devo fare uno sforzo figlio di cari mentale per individuarlo, io sento, so che lui è con Gesù e se dovesse il Signore dirgli poniamo, Tony che fa? Vuoi scendere giù che c'è il padre Alessandro? Ma così farebbe tu? Ma signore certo, io gli ho voluto bene, se proprio insisti ci vado, però se proprio insisti eh, ma c'è tua moglie e i tuoi figli, signore se tu insisti io ci vado, però qui si sta così bene, signore qui c'è la pace eterna e poi fra un po' vengono tutti di nuovo qui, perché poi quando sono dall'altra parte il tempo non è più come ce l'abbiamo noi che un'ora tira l'altra e a volte sembra interminabile, chi è già dall'altra parte è uno schiocco di dita attenderci, allora immaginate quelli che sono chiamati da Dio al martirio, è un dono, Stefano se vuol dire corona, lo Spirito Santo lo sostiene, lo incoraggia, lo aiuta a non cedere, fino all'ultimo lo accerchiano e Stefano che cosa fa? Annuncia Gesù Cristo, anzi vede i cieli aperti e la gloria di Dio, è il figlio di Dio alla destra del padre e lì lo considerano un bestemmiatore e lo lapidano, gli tirano le pietre addosso e mentre Stefano riceve questi sassi, oggi la liturgia al mattino nelle lodi parlava di dolci pietre, ma non esageriamo, dolci pietre, come si fa a dire dolci pietre? non è proprio dolce, proprio dolce non è, un conto se ti tirano un panettone già, un conto se ti tirano il panettone ma se ti tirano la pietra e però quante pietre prendiamo anche noi nella vita? Quante? Allora dolci pietre perché quando tu le accetti con amore ti unisci a Gesù, ti unisci a Gesù e io vorrei dire quest'ultima cosa poi Stefano si rimette in mano di Dio e dice signore perdonali, rimetto la mia anima nelle tue mani, perdonali, c'era Paolo, allora anche questo è un insegnamento per noi, pregare perché ci fa soffrire, mi raccomando, pregare per i nostri nemici, ne abbiamo tanti, pregare per coloro che ci vogliono il male, che ci maledicono, che ci perseguitano, che ci odiano fino alla morte, signore perdonali perché non sanno quello che fanno, chissà mai che questa preghiera a noi ci santifica, perché la preghiera per i nemici ti libera da tutti i peccati, ricordalo, abbiamo contratto peccati noi no, giusto? E Gesù l'ha detto, se voi rimetterete in peccati i vostri fratelli, il padre vostro rimetterà i vostri, ma se non perdonerete, neppure il padre vostro che ne c'è vi perdonerà i vostri peccati. Attenzione a non portare odio, a non portare risentimento, a credine, chiedere al Signore di perdonare, nel nostro cuore non deve mai albergare l'odio, mai, deve sempre albergare l'amore, oggi nell'ufficio delle letture si parla di Santo Stefano che per amore affrontò tutto, ecco, quando hai l'amore di Dio, lo Spirito Santo, perché l'amore è lo Spirito Santo, Santo Stefano è stato ricolmo di Spirito Santo e lui, e concludo, realizza quest'opera in noi, tutta, intera, noi dobbiamo solo dire di sì, dobbiamo solo abbandonarci in questo pugno di giorni che abbiamo sulla terra a compiere la volontà del Signore e, ho concluso, gli occhi sempre rivolti al Signore, e allora vinci, quante insidie ci sono nella vita cristiana, soprattutto se uno veramente in quel proprio riavolo ti comincia a guardare e dice guarda quello lì, questo era di mondo, ora si dice i tre rosari, forza Smodeo, forza Bezebul, forza, andatelo ad attaccare a questo qui, fatelo cadere, quante insidie si presentano, è stupido, è superficiale chi pensa di prendere la corona in mano e tutto va bene, e al contrario, si intensificheranno le prove, perché gli amici di Dio nel croggiolo del dolore, che non significa vivere col muso abbassato, significa stare nella gioia, e infatti chi tra di noi non o perde la gioia o non ce l'ha, è inutile che trova mille pretesti, anche caratteriali, non c'entra proprio niente, si vede in volto quando c'è Gesù nel tuo cuore, e si vede in volto quando per un motivo o per un altro lo perdi, non c'è niente da fare, si vede, chi ha Gesù nel cuore anche se soffre, gli occhi ce li ha pieni di luce, il viso sereno, perché la pace si irradia dal cuore anche se soffri in tutta la persona, capito? Se invece non hai Gesù, perdi Gesù, i tuoi occhi non sono più puntati su Gesù, allora si vede subito, la tristezza ti raggiunge, il demone della tristezza in volto, il volto triste, gli occhi spenti e così via dicendo, ci sono tra di noi anime che vivono così continuamente e non c'è niente da fare, Dio poi le ama e le lascia, questo è tremendo, non c'è differenza, velo in testa, berretta, zucchietto, niente, non c'è differenza, madri, padri, se il Signore vede che prova a insistere con te e tu sei sempre lì che ti piangi addosso, che non fai niente per migliorare, attenzione che il Signore ti lascia dove sei, non che non ti ama più, ma non può insistere, non può modellare perché appena mette le linee tu dici, ahiyah, allora il Signore dice, beh, allora continua, goditi la vita, poi in purgatorio, ne parla, evidente la storia, perché noi, questo anche i santi ce lo insegnano, le prove sulla terra, quelle che non cerchiamo, è quelle che vengono, diciamo, le malattie, le persecuzioni, l'odio, le sofferenze in generale, e ci sono anime che si spengono anziché aumentare la preghiera. Invece lì è il tempo in cui devi pregare di più, davanti al tabernacolo. Quante grazie vengono dispensate da Gesù alle anime eucaristiche, sono le anime che vivono il paradiso già sulla terra, perché è un colloquio intimo, l'ha promesso lui. È un'intimità eucaristica sprendida, straordinaria, sempre dobbiamo cercare Gesù, sempre dobbiamo avere bisogno di Gesù, sempre stare con Gesù. Come Santo Stefano, gli occhi, la mente e il cuore pieni di Gesù, se no non ce la si fa. E noi così allora evitiamo anche, se accettiamo le prove, viviamo il purgatorio sulla terra, che ha due cose interessanti. Il primo, la prima cosa interessante è che le pene del purgatorio in terra sono di gran lunga inferiori, come sofferenza, alle pene purgatoriali dopo la morte. Non c'è paragone. Io vi cito un esempio fra i tanti che potrei citarvi, ed è quello di Madre Speranza. Madre Speranza era una mistica che viveva con l'Evalenza, come sapete. Lei, fondato quel santuario di Gesù, di Gesù misericordioso, era amica di un vescovo, era devota di un vescovo spagnolo. Questo vescovo muore, e lei lo vede in purgatorio. Aveva saputo che era morto, era morto due giorni prima, tre giorni prima, adesso non mi ricordo esattamente. Allora lui, lei lo vede e dice, eccellenza, ma siete voi? Sì, come una sofferenza immensa a lui. Sì, sono io. Ma siete in purgatorio? Sì, è da 80 anni, mi pare che gli ha detto che sono in purgatorio. Ma eccellenza, ma siete voi? Sì. Ma voi siete morto tre giorni fa? Sì, ma è da 80 anni. Per dire che le prove che si passano in purgatorio sono, figli cari, premende, perché ti devono purificare dall'amor proprio, non hai voluto seguire il cammino. Guarda, padre Alessandro te lo diceva, le sorelle te lo dicevano, i fratelli te lo dicevano, la comunità te lo diceva, e niente, io devo essere così, perché avevo ragione io. Ah, sì. E poi da sopra si ne parla, perché cambia tutto. Adeguarsi al disegno di Dio è fondamentale. E c'è un'ultima cosa che il purgatorio ci garantisce, ed è quella che sto per dirvi, che le sofferenze sulla terra ci garantiscono rispetto al purgatorio. Che mentre le pene in purgatorio non hanno merito, cioè tu soffri solo per andare in paradiso, ma non acquisti, sapete che c'è un grado di gloria che ognuno ha, invece le sofferenze sulla terra, fino anche all'ultimo istante, accettate con amore, ti fanno crescere nel grado di gloria. Natuzza diceva che tante anime, che tante anime, tante, alcune anime, non passano dal purgatorio, pur non avendo avuto una vita enormemente santa, e vanno al prato verde, che è l'anticamera, diciamo così, del paradiso, dove non vedono ancora Dio, a volte stando anche a lungo lì, però sono in una condizione di beatitudine previa, non è più la pena del purgatorio. Sapete cosa dice Natuzza? Perché quando hanno capito che stavano morendo, non si sono ribellati. Questo vale soprattutto per le persone che hanno ancora da vivere a lungo, che non se l'aspettavano per dire no, anziché ribellarsi, disperarsi e bestemmiare, si sono piano piano, con la grazia di Dio, perché è la grazia di Dio che opera tutto in noi, rassegnati al volere divino. E questo abbandono alla volontà di Dio gli ha permesso di fare il purgatorio in poco tempo, in quei tempi, quanto dura una malattia che porta alla morte. Ecco, fiori cari, io tutto questo oggi lo sto dicendo, parlando di Santo Stefano, perché, appunto, la Chiesa ci sta dicendo questo, in questo primo giorno del corteo dell'agnello, viene il verbo, si fa carne, perché noi possiamo andare in paradiso. De scensus ascensus, no? Ecco, allora, miei cari, ecco, questo teniamo sempre in noi presente, quello che lo Spirito Santo fa, non quello che noi dobbiamo fare, ma quello che il Signore fa in noi, e i nostri occhi, il nostro cuore, la nostra mente, siano sempre rivolti al Signore, l'audetto, il Cristo. Sempre l'audetto.